Bella a tutti ragazzi con questo nuovo video io sono Ive e oggi ci vediamo su Mongaz Allora ragazzi, io direi, lo so per ora è normale che vedete nero E adesso eccoci qua, vediamo se voi state vedendo quello che sto vedendo io Allora, vediamo Dovreste vedere quello che sto vedendo io, nero, praticamente Eccoci, siamo qua nello spazio di Mongaz Però non so come mai non si vede Eh sì, ciao Eh, aspettate Ok Si vede, si vede tutto Perfetto Perfetto, si vede di tutto Quindi Let's go Mi raccomando ragazzi, questa skin è la mia Quindi Vediamo ragazzi, eh Vediamo Eccoci Vediamo intanto qua ragazzi se c'è qualcosa Vediamo Come mi dice che c'è Eccoci qua Perfetto La prima task è completata Ecco L'altra task che dobbiamo fare raga Eh, me la da qua Non sono sicuro però Per ora sta andando tutto bene Ok Ok C'è già un morto Vediamo Vediamo se abbiamo la fortuna di incontrare un italiano Vabbè Eh, Alex Alex Alex, ci sei? Alex No raga Non lo so Vabbè Volevo dirvi ragazzi D'alasto buzz uscirà Allora Domani L'altro episodio uscirà domani Quindi la live sarà domani E Non vedo ora Diciamo skip Così Senti Meraviglia dei fiori Vota Per favore E niente raga Non vogliono votare Per ora Nessuna voglia di votare Non so Non so Come mai Cioè Vabbè Quasi tutti hanno Skippato Incredibile raga Skippato Non so Io mi dissolio Ok 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 Una missione importantissima Non uccidetevi vi prego Ti prego non uccidetevi Allora 8 51 68 68 Ah Ogni volta raga Impazzisco Ah Dai Dai E' un'altra cosa. Allora 6, 3, 6, 3, 10 e 8 Devo fermare Cos'è? Cos'è adesso rag? Cos'è? Alex raga mi sembra molto sospetto Alex Vediamo raga Cos'è? 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 Cos'è eh si hanno votato tutti Alex vediamo è lui di sicuro è il noto del posto che balle pensare che questa partita dura per tutto il tempo allora devo seguire così ok vediamo vediamo oh ce l'abbiamo fatta ok 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 c'era che è impossibile esserne Carla cioè cioè Carla cioè se non è lei come non era lei no scusa no scusa possiamo ancora vincere però ero troppo sospettosa ero troppo sospettosa ok 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 io non sono io l'impostore allora andiamo subito questo è semplice è semplicissimo allora qua faccio tutto il giro vediamo ragazzi eh vediamo ragazzuoli vediamo ragazzuoli vediamo 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 allora devo fare la missione vediamo ok ok al 2 che problema c'è non mancava ragazzi un po' manca da registrarlo vediamo dai mi sembra un po' impossibile che lui ha segnalato subito il corpo eh ovviamente alcuni la capiscono come me facciamo l'ultima raga poi siamo a posto vediamo 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 ... Sì, sì, sì. Mh managgi C'è stato le falle? Torniamo con questa stanza? No Sì 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 Se non ci vuole il ragazzo è un giro assurdo però... Non ci ho voglia di farlo quindi... Sì 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 Grazie a tutti. 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 Andate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.